P.A. Social è la prima associazione italiana dedicata allo sviluppo della nuova comunicazione portata avanti attraverso i social network e tutti gli strumenti innovativi del web. Si occupa di divulgazione, formazione, pubblicazioni, ricerche ed è la prima rete a livello mondiale dedicata alla nuova comunicazione con la partecipazione di numerosi professionisti, amministratori, enti e aziende pubbliche, associazioni e imprese. Uno strumento utilissimo che anche noi sia in comune che in città metropolitana utilizziamo sempre di più per la trasparenza, per l'efficacia, per la conoscibilità degli atti e poi lo usiamo anche sul piano personale quindi come riflessione istituzionale ma anche politica, Twitter, Facebook, i social in generale che diventano sempre di più un luogo in cui si apre il confronto, in cui i cittadini hanno la possibilità di accedere a servizi importanti in modo gratuito, si abbassa enormemente il livello di consumo della carta, insomma una serie di utilità, poi ci sono anche le distorsioni su cui bisogna vigilare e stare attenti come le fake news che aumentano sempre di più. Oggi in tutta Italia è il PA Social Day, una giornata dedicata ai tanti temi, obiettivi, proposte e scambio di buone pratiche. In ogni regione si è tenuto un convegno PA Social in cui è stato affrontato e approfondito un tema specifico legato alla nuova comunicazione. Il PA Social è un'associazione fondata da una serie di comunicatori pubblici, della pubblica amministrazione e non solo per provare a innovare i metodi e gli strumenti della comunicazione pubblica. La rivoluzione è già in atto, quindi non stiamo parlando del futuro, stiamo parlando già del presente. Tu hai oggi che almeno il 70% degli italiani, utili compresi i bambini, sotto i sei anni, utilizzano un device, cioè uno smartphone. Quindi significa che per poter comunicare a queste persone tu devi stare dove le persone sono. Quindi inevitabilmente la pubblica amministrazione che voglio o meno deve starci. Però devo dire la verità che mi pare che la pubblica amministrazione campana è messa molto meglio rispetto a tante altre pubbliche amministrazioni in giro per l'Italia. A Napoli, nella sala Cirillo della città metropolitana, si è discusso di fake news. È una delle 17 tappe fatte dalla PA Social in giro per l'Italia. Qua in particolare parliamo delle fake news, cioè della disinformazione online. È il tentativo di raccontare come la pubblica amministrazione ha un ruolo fondamentale nella costruzione di una corretta informazione, una corretta comunicazione. Ciò che la pubblica amministrazione tro regresa en il giro per l'I influential Tony Hanza è una corretta informazione mondiale di comunità COS Scriviti a restau canale contattare amministrazione. St Racichorferi Anzani e svirけど por attr! Grazie.